Siamo in compagnia di Davor Bojovic, un giocatore sloveno molto forte che ha partecipato allo Special Vegas di giugno che si è disputato al Casino Perla e ha vinto uno dei due pacchetti garantiti. Davor, è stata la prima volta in Nova Gorica con i torrenti del nostro circuito? No, no, ho già giocato due anni la tua serie. Ah, veramente? Non l'ho mai visto prima. Non ti ho mai visto prima. Non ero competente per il leaderboard mai. Perché? Non ho mai visto che c'era il leaderboard. No. Quindi i tuoi amici, Mitya, non ti ha detto che siamo il leaderboard? Ma non abbiamo mai competente per il leaderboard. No. Mitya, tu? Mi e Mitya siamo andati a Gorica per due o tre anni, ma non per il leaderboard. Solo questo anno per il leaderboard. Ok, ora stavamo giocando. Davor ha combattuto lo Special Vegas in modo decisamente accanito per la vincita dei pacchetti. a un certo punto si era fermato il gioco, si stava parlando di come fare, perché erano tanti giocatori interessati comunque a entrare nell'Italian Poker Team e alla fine la spuntata. E' stato detto che durante il turno, c'erano alcune persone che erano molto interessate in le pacchetti per la vincita qui in Vegas. E tu sei una di queste persone. E almeno hai avuto il pacchetto. Sì, c'erano 5 di noi, 3 di loro non vogliono il pacchetto, 2 di noi vogliono il pacchetto. Quindi ora siamo qui.